Sì, è mia sorella. La stilista è una mia amica, si chiama Jessica, eccola qui. È vero, però non rovina l'auto, però ci piace questo testo. Creerò la nuova tendenza. Possa per te il capace di rovina all'esterno. In realtà sto andando, si fa tanto all'asco, e tappa prima ma cazzo a te. Adottarremo, e poi il gatto. Adottare? Sì, abbiamo arrivato dal giornal sull'euro. Scusi. Come è qui? C'è un evento, e poi è più invitato. E poi è più invitato. Mi ti già metti? Due cose. Va bene, ma ti sento a tutti. Allora, un po' di tanti. Mi siete ispiratori. Ti leggo il canale di toscana? No, mi sono solo male! Ah ah! Mi sono fatto! La mano del Toscana ora. Pascio il mio video delle ispiratori, mio canale del Toscana, da Svitubamba. E da, da. Da, da. A, da. Da, da. a riguardo